Allora, secondo appuntamento con incontri d'autori? Sì, è il secondo appuntamento di questo ciclo di incontri con autori locali e non che la biblioteca di Lolo Ciuffenna e la biblioteca di Terno Pabracciolini, di Fornaci, hanno organizzato insieme. È il primo momento di progettazione comune di queste due biblioteche che da poco si sono unite nella loro attività. Questo è il sabato 18 marzo, è il secondo appuntamento di questo ciclo. E al centro, il protagonista di questo incontro si chiama Aristiano Mazzurana, è un autore abbastanza giovane perché ha la sua seconda prova d'autore e che viene dalla provincia di Verona. Il romanzo che presenterà è Ultime ore a Rosendale, è l'autore di una fuga, di una fuga ambientata intorno al periodo della Seconda Guerra Mondiale, la storia di una fuga ma anche la storia di un trovamento. Si può dire che è un romanzo di formazione e sembra una storia molto interessante, quindi vi consiglio di tutte le persone a essere presenti sabato pomeriggio alle 17.30 alla Dio Pabracci. Alla conclusione ci sarà un aperitivo per tutti.